Ehi! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi, nuovo video vlog È da un sacco di tempo che non ne faccio uno Comunque in questi giorni vi racconterò un attimo come va la mia vita Adesso sto andando a cena E poi domani mattina partiamo Cioè andiamo da me in campagna per un qualche giorno Perché sennò qua a Milano io impazzisco Sto studiando anche un po' più con tranquillità Siccome siamo in periodo di sessione Ma poi vedrete un video anche a riguardo E quindi niente, vi porterò con me in questi giorni Poi voglio parlarvi di una scoperta che ho fatto clamorosa E niente Quindi volevo fare semplicemente l'intro Lì c'è già la mia valigina pronta per partire E cioè in realtà poi torno qui a Milano sabato Quindi in realtà faccio pochi giorni Però spero di abbronzarmi un pochino Perché sennò è pazzesco Eccoci qui di nuovo nella mia stanza Penso vi ho lasciato qualche video degli ultimi giorni passati da me in campagna Come potete vedere mi sono un po' abbronzata Adesso mi si sta già spelando tutto il naso Ora devo andare a rifarmi le unghie Perché praticamente non c'è orrore Quindi andiamo a sistemare questa situazione Il tempo fuori fa schifo Però ho un vestitino super cute No questo vestitino è troppo dolce Sembro una bimba Sono tornata a casa Ho cenato e ora vi faccio vedere le mie nuove unghie Allora questa è la mano sinistra Questa invece è la destra Questa mattina ho fatto un esame Poi ovviamente ve ne parlerò come vi ho già detto In un video specifico Study with me per questa sessione E trovo ora finalmente un momento Per parlarvi di una soluzione Che ho trovato per quanto riguarda la rimozione dei pelli Che è top Lui è diventato il mio miglior amico Ed eccolo qui È il Brown Silk Expert Pro 5 Quindi ora vi faccio vedere Ve ne parlo un pochino Perché vi giuro mi sto trovando da dio Ho iniziato ad utilizzarlo circa 4 settimane fa E mi sto trovando veramente super super bene Prima di provarlo avevo sentito già delle recensioni Diciamo dalle mie amiche Poi questo qui l'ho fatto provare anche mia madre E anche lei si sta trovando molto bene Inizio con il farvi vedere che cosa c'è all'interno Della confezione E poi lo proviamo insieme Perché il primo periodo Insomma le prime 12 settimane Dovete fare un trattamento a settimana Quindi adesso vi faccio vedere Iniziamo prima con la pochettina Che contiene il tutto Troviamo al suo interno un rasoio Perché prima di procedere con il trattamento Dovete passare il rasoio E poi abbiamo il nostro dispositivo Il nostro Brown Silk Expert Con tre testine diverse Questa qui è quella più piccolina Per le zone in cui dovete essere più precisi Mentre questa qui invece è quella più grande Per le zone più ampie del corpo Cosa molto importante prima di iniziare Ovviamente non potete utilizzarlo Su zone intime Su zone con dei piercing Oppure dei tatuaggi Per esempio io qui Oppure qui Non lo posso utilizzare E ovviamente Non utilizzatelo mai Su una pelle scottata dal sole Quindi fate attenzione Durante l'estate Mi raccomando però Importante non scottatevi Mettetevi sempre la protezione solare Ok? Sulla confezione C'è anche questa tabella Con tutte le tipologie di pelle E di pelo Infatti il dispositivo Si adatta automaticamente Alla tonalità della vostra pelle E gestisce da solo L'intensità Ok Mi sono spostata qui in bagno Adesso Prima di iniziare tutto Andiamo a rimuovere i peli Con il rasoio Mentre possiamo passare Alla luce pulsata Comunque vi faccio vedere tutto Ok Sulla mia gamba Non ci sono più peli Lo andiamo ad accendere Con questo tastino qui Facciamo rilevare La tonalità della pelle In questo modo Va a regolare l'intensità E poi schiacciamo Questo tastino qui Per far partire La luce pulsata Appoggiamo Quando diventa bianco Schiacciamo qui Per esempio La gamba Potete utilizzare Le modalità slide Quindi tenendo premuto qua E intanto muovendolo Verso l'alto Mentre per esempio Sulle braccia Andate a fare Pezzo per pezzo Per un risultato Più preciso Ora vi faccio vedere Sulle braccia Allora Innanzitutto Togliamo il bracciale Comunque è comodissimo Anche perché Potete farlo Quando volete E soprattutto A casa vostra E insomma In realtà Dove volete Togliamo tutti i peli Incominciamo Quando vi spunta la luce rossa Spostatelo un po' E mettetelo meglio Magari Perché non rileva La giusta tonalità Sentite Una leggerissima sensazione Di calore Ma vi giuro Che non fa per niente male Questa cosa Mi ha sorpresa Veramente Perché io sono Una fifone In queste cose Quindi Niente Per me Top È stata Una scoperta Fantastica Io continuo Con tutto il resto del corpo E ci vediamo dopo Sono quasi le tre Adesso ho un impegno Diciamo Con una lezione in uni Mi sono sparata Due testi Non stop Di russo Poi vabbè Capirete Insomma Nell'altro Nell'altro video E stavo per impazzire Avevo un mal di test Atroce Ora facciamo questa cosa E poi In teoria Dopo Dovrei uscire Perché ho un appuntamento Una cosa Così Niente Neanche il caffè Mi sta aiutando Vabbè Allora Sono appena uscita Dalla doccia Infatti ho ancora i capelli bagnati Mi è arrivato il mio Pochi E quindi Dovevo mangiare Allora L'ho preso con Il salmone marinato Io sono innamorata Del salmone marinato Le alghe Qui Avocado Ananas Mango Germoglie di soia E sotto c'è il riso basmati Top Buonissimo Ormai è diventata una fissa Per me non mi piaceva Assolutamente Ora ciao Buongiorno Oggi con questo top fucsia Stupendo Adoro Anche abbinato alle mie unghie Ho sistemato tutto il mio armadio Tutte e tutte le cose Quindi Sono molto molto orgogliosa In realtà Mentira Perché Da questa parte Non troppo Mentre da quest'altro lato È tutto in ordine Sono molto molto soddisfatta Ho anche diviso le cose per colore Quanto durerà Non so Anche qua sopra Ho cercato di dividerle Più o meno per colore Poi ho sistemato qua dentro Le cinture Come al solito Gli occhiali Eccetera E anche qui sotto Ho messo le borse Questa qui è nuova Mi sono innamorata Bellissima Qua dentro per esempio Abbiamo tutti Gli elastici Tutti i miei Scrunchies Mentre qua dentro Ho delle pochette Così è tutto ordinato Ho anche cambiato le lenzuola Stamattina E niente Ovviamente Rigorosamente bianche Stamattina Sarà stupendo Dormire nelle lenzuola pulite Io è una cosa che amo Ora devo tornare Ai miei doveri Da Universitari In sessione Ansietta No mi mancano due esami Poi vabbè Come vi ho già detto Tipo 40 volte In questo video Vi racconterò tutto Nell'altro Quello dedicato appunto Alla sessione Che uscirà Poi Prossimamente Fatemi sapere Se voi siete ancora In sessione O o no E soprattutto Chi ha fatto la maturità Fatemi sapere Come è andata È stato un video Così per tornare A chiacchierare Un attimo Visto che non ci vediamo Da un po' Sono stata Super impegnata In quest'ultimo periodo Con l'università Con altre cose Con la vita Però Tornerò presto Sui vostri schermi Con nuovi video Se avete visto il video Fino alla fine Commentate con un emoji Rosa E noi ci vediamo presto Con un nuovo video Ciao